Vigor Trani brindisi a fare da piatto forte in un turno il numero 19 del campionato di eccellenza pugliese che presenterà tante sfide con il pronostico sulla carta già scritto, prime fra tutte quelle interne di Barletta e Casarano con Terlizia e Molfetta Sportiva. Il match club di giornata sarà quindi quello del comunale tra due squadre in buono stato di forma. La Vigor, reduce dalle due vittorie consecutive contro Molfetta Calcio ed Alto Salento a Vetrana, che ne hanno rilanciato le quotazioni in chiave playoff solo due, i punti che separano i bianco-azzuri dalla quinta, ospiterà quella che è forse la squadra più in forma del campionato. I messapici, dopo il doppio KO con Casarano e Barletta, hanno infilato cinque vittorie di fila, delle quali le ultime tre ottenute in rimonta mostrando grande carattere e capacità di tenere il passo del Casarano. A proposito del Casarano, la capolista Alcapozza contro il fanalino di coda Molfetta Sportiva avrà la possibilità di continuare la propria marcia in attesa dello scontro diretto con il Barletta del 27 gennaio. Impegno agevole sarà anche quello dei bianco-rossi che al Manzichiappoli incontro un Terlizzi in disarma ed in piena crisi avranno la possibilità di bissare il successo ottenuto nel recupero contro l'Alto Salento a Vetrana. Alle spalle del trio di testa, importante in chiave playoff sarà il match del bianco tra Gallipoli e Atletico Vieste. I Salentini scottati dalla bruciante rimonta subita a Brindisi negli ultimi minuti, costata un successo che pariva acquisito, ospiteranno un Atletico Vieste a sua volta reduce da un KO, quello del recupero di Corato, che ne ha un po' frenato quelle belle età di playoff ben salde invece nelle intenzioni della Forti Saltamura. I Murgiani, quinti dopo il successo nel recupero sulla Molfetta sportiva, saranno di scena al di Lido contro un Ognuno Calcio Biceglie sempre vincente nelle ultime tre uscite casalinghe e sempre alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona calda. Dalla zona calda vorranno allontanarsi anche Corato e Sansevero. I Neroverdi saranno protagonisti nell'abordabile match interno contro l'Alto Salento a Vetrana, mentre i Giallo Granata saranno ospiti dell'Otranto sempre quarto ed a caccia di punti per continuare a sognare. A chiudere il programma la sfida del Poli tra Molfetta Calcio e Mesagne, nella quale la squadra di Sportillo proverà a spezzare un digiuno di vittorie che dura ormai da ben due mesi e mezzo.